Ciao a tutti e bentornati in Tessiland News. Quest'oggi parleremo di un filato che in un certo senso possiamo definire il re delle fettucce in casa Tessiland. Ebbene sì, perché grazie a questo filato potrete realizzare creazioni adatte tanto per le stagioni più calde quanto per quelle più invernali. Un filato è in grado di farvi realizzare davvero qualsiasi cosa grazie al suo essere così brillante, setoso e molto morbido. Quest'oggi parliamo del king, analizziamolo nel dettaglio. Eccolo qui il nostro king, questa bellissima fettuccia composta per il 60% cotone, 40% acrilico, per il quale consigliamo l'utilizzo o dei ferri 6-8 oppure dell'uncinetto 5-7. Eccola qui questa bellissima fettuccia davvero leggera, pratica e versatile, che vedete presentata così in rocche da 250 grammi per 500 metri circa. Le varianti di colore sono davvero tantissime, adesso avremo anche modo di metterle insomma un po' a confronto per far notare bene le differenze. Allora iniziamo con queste che sono turchese petrolio e nero, poi abbiamo ruggine crema e beige, poi ancora corallo ciliegia e bordeaux, poi abbiamo perla bianco e panna. Come potete vedere il bianco e il panna sono davvero molto simili, adesso li vediamo anche un po' più nel dettaglio. La differenza è sottile, però mi auguro che insomma riusciate, eccola qui, a vederla. Questa differenza tra bianco e panna. Poi abbiamo glicine, rosa e cipria. Proseguiamo con questo mix che io adoro di colori che sono il senape, il fucsia e il viola. E infine poi concludiamo con celeste, bluet e blu. Ve l'avevo detto no? Cotone e acrilico, è o non è un mix perfetto. Poi oltretutto con questa variante di colori così vasta vi permetterà di far sì che potrete utilizzare magari anche più colori contemporaneamente. Proprio come ha fatto, l'ha fatta tutto fare con la giacca cardigan kimono king, in cui è utilizzato il viola, il petrolio e il tiffany. Un abbinamento davvero perfetto. O ancora magari per qualcosa un po' più estivo, come può essere il top sotto giacca king, sempre di Maria Grazia Dottore, in cui ho utilizzato il king cipria. Elegantissimo, ma ancora il king può essere utilizzato per scialli, per vestitini e un passepartout anche questo davvero per tutto l'anno. Insomma acquistatelo e poi mi direte. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale youtube e di attivare la campanella e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!